Bene, io direi senz'altro che possiamo cominciare. Il premio sarà di 25.000 euro, offerti dallo sponsor della serata, Trento Doc, lo spumante metodo classico del Trentino. Un ringraziamento particolare al Mart, un tempio dell'arte contemporanea che questa sera apre le porte per la prima volta a un'altra arte. Il vino è la mia passione e mi trovo ad interrogare Giovanni Coutinho, il più grande di tutti, che ha ammazzato la moglie. Io non ho ammazzato nessuno. Adesso me la può fare una dedica. Vaffanculo! Addirittura! A me piacciono le sfide. Non per lo stupido, non sei allenato. Ho capito, sei tu che non ce la fai, eh? Guarda che io lo dico per te. Ti ho promesso che questa volta in cima ti ci porto, dai. Devi entrare in sintonia con la montagna, non aggredirla. Ma io sono in sintonia, anzi di più. Per la prima volta non mi sento schiacciato da questi sassi, da queste dimensioni. Giovanni, io non ce la faccio più. Vuoi che torniamo indietro? Mi dispiace. No, mi dispiace per te perché so che ci tenevi tanto. E vabbè. Non so cosa ti sia successo, ma mi piace. Bene. Madameina, il catalogo è questo, delle belle che ammò il padron mio. Un catalogo gli ecchi ho fatti io. Osservate, leggete con me. Osservate, leggete con me. In Italia 640. In Lamagna 231. Cento in Francia e Turchia 91. Ma in Spagna. Ma in Spagna sono già mille e tre. Noia. Grazie a tutti.